melania dimmi che siamo qui al trullo e rit che hanno rubato e che cosa il trullo sono con giacinto per il film mi rifaccio il trullo lui ha un ruolo particolare che è quello del sono un direttore di banda musicale di questo paese che immaginario che si chiama carneto e sono coinvolto anche io in questa in questo furto come non lo so non lo sono internazionale sì diciamo che ha dei risvolti a carattere internazionale infatti sono coinvolte anche la cia la 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 le cose bugia però giallo un giallo diciamo ocra con lo sfondo con una parte anche romantica beh un poco di romanticismo non guasta per cui c'è anche anche del romanticismo comunque fu un film molto divertente io ho visto per la prima volta tutto montato oggi e vi posso garantire che è divertente cioè mi sono divertito i nostri telespettatori cari telespettatori andate a cinema a vedere questo film perché ne vale la pena dal 3 marzo dal 3 marzo in tutti i cinema di puglia basilicata e calabria ciao ciao no no andiamo a fare un'ape adesso noi invece facciamo la foca la foca a focaccia